La celebrazione delle quattro giornate di Napoli Noi siamo orgogliosi di essere stato il primo popolo a liberarsi dall'oppressione nazifascista l'abbiamo fatto 75 anni fa, ribellandoci all'oppressione ingiusta e quindi grande sede di giustizia e per la voglia di libertà. Di questi tempi le quattro giornate assumono un valore ancora più importante perché la democrazia va ossigenata quotidianamente ed è molto bello che poco fa in uno dei passaggi delle commemorazioni ho incontrato un gruppo di studenti che iniziavano un corteo per arrivare al ponte dedicato a Maddalena Cerasuolo che è una delle tante donne partigiane che difesero quel ponte, noto anche come ponte della sanità che i tedeschi volevano far saltare per interrompere i collegamenti dei partigiani tra il centro e il capo di monte In quelle mattine il popolo di Napoli sapeva dove andare e questo dimostra come libertà, giustizia, fratellanza e solidarietà sono valori scolpiti non solo nella Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo ma anche nella storia di questo grande popolo che è il popolo della nostra città di cui ho un grande orgoglio di fare il sindaco Grazie 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 Grazie